Vado in diretta con Mirko Valdifiori, intanto Mirko bentornati in capo. Ti ringrazio, dopo un po' di mesi speravo in una fine diversa, soprattutto in una partita come il derby, ci tenevamo a Ghera Coppa Italia e ci tenevamo a passare il turno. È stato un primo tempo con un'occasione nuova e un po' loro e dopo il secondo la sbloccata non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, che voleva andare in continuità anche alla vittoria di campionato. Adesso ci prepariamo bene da domani per la sfida di Cesena e sappiamo quanto è importante. Ti chiedo solo se hai avuto qualche problema al ginocchio perché prima del cambio ti abbiamo visto un po' claudicante o se era soltanto un cambio normale? No, no, no. Quando non giocavo da un po' ho avuto un po' l'adduttore. Quando ho calciato non ho preso bene la palla e ho sentito indurre l'adduttore, però è finita lì niente di che. Nelle ultime due partite di campionato il Pescara ha giocato costantemente con il centrocampo a tre, oggi si è riproposta a due con te e Diambo. In cronaca abbiamo detto che in un centrocampo a tre visto in campionato Valdifiori potrà tornare molto utile. Io ti ringrazio, cerco sempre di allenarmi al massimo, cerco di essere d'aiuto quando c'è bisogno, per i compagni anche al fuori dal campo. So che magari in un centrocampo a due per le mie caratteristiche faccio più fatica a giocare e quindi il mister quando gioca a due giustamente sceglie altri interpreti. Se ci sarà occasione di giocare col centrocampo a tre il mister riterrà opportuno puntare su Valdifiori. Io cerco di farmi trovare pronto, come ho detto, lavorando sempre al massimo per il bene del Pescara. L'ultima Mirko che poi dovete andare via, senza polemica, ti sei chiesto cosa ti è mancato in questi mesi per poter avere una chance? No, no, guarda, io non faccio mai polemica, io devo fare il professionista. C'è un allenatore che fa le sue scelte, noi le dobbiamo rispettare, dobbiamo dare il massimo per il bene del Pescara. Anche perché fare polemica vorrebbe dire, tra virgolette, magari mancare di rispetto a un compagno che in quel momento gioca al mio posto e sta facendo bene. Quindi nessuna polemica, siamo tutti un gruppo unito. Come ti ho detto, ringraziamo anche i tifosi che stasera sono venuti a fine partita. Cosa vi hanno detto? Ci hanno incitato. A fine cosa vi hanno detto? No, come ho detto, ci hanno incitato e supportato soprattutto per la partita di Cesena. Già stasera gli abbiamo dato un dispiacere, sappiamo quanto è importante Cesena e vogliamo, come ho detto, prepararla al massimo per dare continuità alla vittoria con l'Olbia.